Benvenuti al meteo. Prevale ancora l'alta pressione sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio la giornata di giovedì 27 maggio sarà caratterizzata dal bel tempo. Vediamo dunque il dettaglio. Sul Veneto sole prevalente, tuttavia in alcuni momenti non si escludono locali annuvolamenti. In montagna al pomeriggio sarà possibile anche qualche occasionale temporale che localmente potrebbe riguardare anche le aree di pianura limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 6 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove sarà soleggiato, tuttavia nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, tanto sole inizialmente ma anche in questo caso a seguire, non si esclude qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie.